8 cadaveri fra i disperati giunti nel porto di Grotone a bordo della nave della Marina Militare Bordini. Soccorsi nel Mediterraneo, i 705 migranti, quasi tutti di nazionalità subsahariana, sono stati accolti alla presenza del prefetto Claudio Sanfilippo. Lo sbarco è iniziato con qualche ora di ritardo rispetto al previsto a causa di problemi di manovra del natante. I migranti sono stati così trasbordati a gruppi di 100 su motovedette della Capitaneria che hanno fatto la spola fino alle banchine. Sul posto hanno operato e coordinati dalla prefettura di Grotone le forze dell'ordine e il consueto dispositivo di accoglienza. L'ultimo sbarco nella città pitagorica risale al 30 agosto scorso. In quell'occasione a bordo della nave Fiorillo della Guardia Costiera giunsero 190 migranti, tra cui 177 uomini, 9 donne e 4 minori accompagnati, in maggior parte di etnia siriana, sudanese, egiziana e nigeriana. Dopo le attività di sbarco, gli immigrati sono stati accompagnati presso il cara di Sant'Anna di Isola Caporizzuto. Qualche giorno dopo, gli uomini della squadra mobile hanno fermato i presunti schiaffisti. Loretano colloca per la Cineus 24.